Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Sono 25 casi di forma neuroinvasiva della malattia del West Nile in Emilia-Romagna. I dati sono aggiornati al 12 agosto. C'è stato purtroppo anche un decesso proprio nel ferrarese registrato dall'azienda Wessel di Ferrara. Si tratta di un uomo di 88 anni. Il trend in crescita è dimostrato dal fatto che nel corso dell'intero 2021 i casi furono 17, nel 2020 furono 5 e nel 2019 3. La presenza del virus è stata verificata in zanzare e catturata in 5 province dell'Emilia-Romagna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e appunto Ferrara. Già a partire da inizio del mese di luglio con un anticipo di circa 10 giorni rispetto al 2021. Il rischio che la regione vuole scongiurare è quello di ripetere il dato del 2018, anno in cui si registrò il maggior numero di casi di forma neuroinvasiva di malattia, con 101 casi registrati. Anche allora era stata rilevata una circolazione precoce del virus. E facciamo un po' il bilancio della stagione estiva animata da tanti eventi. Un bilancio che facciamo insomma subito dopo Ferragosto. Un bilancio che dicevamo che facciamo con un DJ animatore di locali discoteche tra il Veneto e l'Emilia-Romagna, Matteo Sandri. Sentiamo quello che ci ha detto. Siamo con Matteo Sandri, DJ animatore e organizzatore di eventi durante appunto quest'estate 2022. Tanti locali tra Veneto e l'Emilia-Romagna. Allora Matteo, partiamo subito facendo un bilancio. Abbiamo appena superato Ferragosto. Come sta procedendo quest'estate? Beh, devo dire molto bene. Confronto l'estate e ovviamente le estate che abbiamo passato finora. C'è un ritorno al divertimento, c'è voglia di divertirsi. Ci sono le cene spettacolo che stanno andando alla grande, soprattutto in Romagna, che è il regno di questo. Ci sono i locali che comunque riescono a portare ad avere tantissima gente. Ci sono dalle feste di piazza alla piccola festa di paese, agli grandi festival riescono ad avere comunque il sold out in ogni luogo, dalla parte della montagna, in collina, in città, al mare. Insomma, ogni luogo diventa punto di riferimento per la festa. Allora, tu ti rivolgi un pubblico piuttosto eterogeneo, quindi giovani ma non solo. Quali sono i tipi di festa che funzionano maggiormente durante l'estate? Le piazze, piuttosto che i locali sulle spiagge? Qual è appunto l'ambiente che funziona maggiormente? Guarda, devo dire che un po' tutti. Però la gente sta ricercando. C'è quella nicchia che cerca musicalmente un genere suo, che riesce a ballare con più tranquillità, magari con un genere ricercato. Però quello che sta andando di più, secondo me, è proprio il divertimento a 360 gradi. Quindi molta musica italiana da cantare. Adesso, ovviamente, poi anche tu, sapendo di radio, esperto di radio e grande appassionato, la musica italiana di adesso è molto ballabile, quindi automaticamente il divertimento arriva subito. Si canta e si balla. Quindi, secondo me, è proprio questo genere. Questo genere dove la gente viene coinvolta sempre di più in prima persona nel cantare e ballare. Quindi questo, secondo me, è la base principale del divertimento. E' quello che cerca la gente, dove veramente c'è la possibilità di scatenarsi senza controllo. Usando la testa o senza controllo, a volte. Veneto ed Emilia Romagna sono le tue principali regioni. Location, tu sei Veneto, ma spesso lavori appunto in Romagna. Cambia il divertimento a seconda delle regioni e delle zone? Ma secondo me no, tanto. Devo dire che cambia forse la possibilità dell'ambientazione. Quindi, non so, in Romagna, come dicevo prima, esistono molto di più le cene spettacolo, cose che in Veneto non ci sono. Noto in Veneto molti più festival, ad esempio questi 5, 6, 7 giorni in cui si offrono più staff, più generi musicali, più eventi. Quindi il divertimento di per sé cambia un po' come location, come evento. Però musicalmente siamo nella stessa linea e anche come tipologia di clientela. Quindi sia i giovani, quindi gli eventi in cui vengono coinvolti più giovani, quelli invece più adulti poi. Però comunque generalmente in base alle due regioni troviamo molti più festival in Veneto, più cena spettacolo, evento singolo invece in Emilia Romagna. Allora, per finire Matteo, parliamo invece di qualcosa di un po' più serio, tra virgolette, perché gli ultimi due anni l'inverno è stato fortemente penalizzato dal Covid e quindi di conseguenza le chiusure che vi hanno costretto a saltare diversi eventi, diverse iniziative. Intanto che cosa prospetti per questo inverno che arriverà e soprattutto è cambiato un po' l'approccio anche delle persone nei confronti dei locali al chiuso? Sì, assolutamente sì. Mi è idea, la prima domanda, secondo me ci saranno leggeri restrizioni forse nel quantitativo di persone all'interno dei locali, magari con dei controlli su questo. Noto che la clientela è molto più giovane confronto le persone che frequentavano la discoteca due anni fa. Questo perché molti sono diventati genitori, sono andati a convivere, famiglia, figli e quindi li ha portati proprio a perdere l'abitudine di andare in discoteca in inverno e ci sono molti, molti più giovani. Forse anche troppo giovani perché si dicenni, trovarli in discoteca secondo me non è ancora il luogo adatto. Però questo sì, ha portato a un abbassarsi dell'età della clientela invernale, con sicuro. Turismo, lo ricordiamo, molto importante, l'indotto significativo da un punto di vista economico ma anche sociale. Ora cambiamo argomento. E' ufficiale Alessandro Bratti, il nuovo segretario generale dell'autorità distrettuale del Po, ferrarese, attuale vicepresidente dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Bratti ha un curriculum di lungo corso, è stato tra l'altro per quattro anni direttore di Ispra, dove ha anche avviato e realizzato progetti per lo studio, e il monitoraggio e la difesa del territorio nazionale. In passato è stato anche direttore di ARPA, Emilia Romagna, un passato anche politico. E' stato anche attivo in Commissione Ambiente, appunto in quanto parlamentare presidente della Commissione Bicarmerale di inchiesta sulle attività illecite commesse al ciclo dei rifiuti. Noi lo abbiamo intervistato alcune settimane fa, a margine di un convegno che era stato organizzato a Mesola per parlare di Cuneo Salino, proprio in vista di questa importante carica che è arrivata appunto in queste ore. Sentiamo che cosa ci ha detto. Lei è il segretario generale del distretto autorità appunto di Bacino del Po, un compito sicuramente non di poco conto in questo momento, con PNRR e soprattutto la questione dei cambiamenti climatici. Qual è il suo obiettivo, qual è il suo spiccio? Ma adesso prima di definire degli obiettivi, come sempre quando si entrano in nuove strutture, per quanto io ormai abbia una certa esperienza, dovuta al mio percorso lavorativo e all'età, è sempre bene conoscere in maniera approfondita la struttura, vederne i punti di forza e i punti di debolezza, mantenere questo rapporto diciamo molto positivo con il segretario di prima che andrà tra l'altro a dirigere l'Aipo, che è di fatto il braccio esecutivo dell'autorità, e c'è la necessità sicuramente di dare più forza al ruolo di questi organismi. Tenete conto, io ho una storia, purtroppo non essendo giovanissimo, ma la legge che ha istituito le autorità di distretto, io ero relatore in Parlamento di questa legge, e questa legge si è venuta a realizzare dopo oltre 15 anni dalla direttiva 2060 europea che ne prevedeva, quindi le difficoltà a ragionare in termini di bacino sono sempre state presenti, cioè il fatto di concedere da parte anche del sistema degli enti locali, delle regioni, del, tra virgolette, potere, cedere del potere a un'autorità che in questo caso agisce su più regioni, voi capite che da un punto di vista politico è sempre stato un punto critico. Si è fatto il primo passo, già parecchio anni fa, adesso secondo me c'è da completare, da rinforzare queste autorità per fare in modo che le politiche siano il più possibile incisive, sennò il rischio è che lasciando i singoli localismi poi non si riesca a raggiungere gli obiettivi. Parliamo ora delle elezioni politiche del 25 di settembre, approvate dalla Direzione Nazionale del Partito Democratico, tutte e tre le candidature del PD ferrarese, Antonio Fiorentini che correrà per il Senato, e Paola Boldrini e Marcella Zappaterra per la Camera. Sentiamo. La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato tutte e tra le candidature proposte dalla Segreteria Provinciale in vista delle elezioni del 25 settembre. Paola Boldrini sarà candidata al Collegio Uninominale della Camera della provincia di Ferrara, Antonio Fiorentini sarà candidato nel listino plurinominale proporzionale del Senato in quarta posizione, capolista Sandra Zampa, Marcella Zappaterra invece sarà candidata nel listino plurinominale proporzionale della Camera in quarta posizione, capolista Agnassi, ma candidata anche nel Collegio Uninominale Territoriale. Non c'è dubbio che essere riusciti a candidare i nomi della Rosa è motivo di soddisfazione, sottolinea Nicola Minarelli, segretario provinciale del Partito Democratico. L'elezione o meno dipenderà ora dalla campagna che avremo di fronte e dalla capacità dei nostri candidati e del PD di raccogliere consensi in questa delicata e importante competizione, continua Minarelli. Sono sicuro che avremo una bella affermazione e questo farà scattare molti collegi e seggi anche per i ferraresi. Noi, ha concluso Minarelli, siamo in campo per vincere e il risultato è alla nostra portata ovunque. Dario Franceschini sarà invece candidato a Napoli. Un orgoglio essere il capolista del PD a Napoli. Cercherò di essere la voce al Senato di questa terra straordinaria, di questa città unica al mondo, da sempre e per sempre capitale della cultura. Così l'attuale ministro della cultura è ferrarese, Dario Franceschini, con l'hashtag dalla parte di Napoli. Ha reso nota la sua candidatura in campagna e le prossime elezioni appunto che si svolgeranno il prossimo 25 di settembre. Poi naturalmente via via daremo anche conto degli altri parlamentari ferraresi che si candideranno nelle altre liste e negli altri partiti. Ora cambiamo decisamente argomento. Lo sbarco a Ravenna della prima nave carica di mais proveniente dal Mar Nero è importante per fermare le speculazioni sui prezzi e in attesa di entrare in porto c'è già una seconda nave cargo. Questa è la situazione, una situazione come spiega il presidente della SIS, la società italiana Sementi, Mauro Tonello, che ha riflessi anche sul mercato. Sentiamo. Lo sbarco in Italia della prima nave carica di mais proveniente dal Mar Nero è importante per fermare le speculazioni sui prezzi dalle stalle alle tavole in una situazione in cui l'Ucraina con una quota di poco superiore al 13% è il secondo fornitore di mais dell'Italia che è costretta ad importare circa la metà del proprio fabbisogno per garantire l'alimentazione degli animali negli allevamenti. È quanto afferma la Coldiretti relativamente allo sbarco a Ravenna di 15.000 tonnellate di mais della prima nave partita dal porto ucraino. Sempre a Ravenna, in attesa di entrare in porto, c'è anche una seconda nave, battente bandiera liberiana, che trasporta 11.000 tonnellate di semi di soia destinati sempre all'alimentazione animale. Lo sbarco avviene peraltro in un momento particolarmente delicato per l'Italia in cui senza precipitazioni si rischia di dimezzare i raccolti nazionali di foraggio e mais destinati all'alimentazione di animali a causa del caldo e della siccità. Una situazione, come spiega anche il presidente di SIS, Società Italiana Sementi, che ha riflessi anche sul mercato. Diciamo intanto che noi siamo netti importatori sia di mais, di soia e anche di grano tenero, che sono le produzioni che si vedono improntate sull'Ucraina. L'Ucraina è una produttrice di questi beni. Lo sblocco bene perché ci sono, bisogna ricordare, che nel mondo ci sono paesi che proprio sopravvivono grazie all'esportazione di questi paesi. Questa non è l'Italia sicuramente che se mancava dall'Ucraina l'avrebbe presa da qualche altra parte. Quindi da questo punto di vista umanamente non si può che essere soddisfatti che si riprenda almeno un commercio che terrà un equilibrio anche nel mondo e sfame tante popolazioni che dipendono proprio da quelle esportazioni. Dal punto di vista del mercato cambia ben poco in realtà perché intanto lì stiamo parlando per esempio di forti produzioni di grano tenero e non di grano duro. Oggi le tensioni ci sono molto più sul grano duro che non sul grano tenero. E anche se noi mettiamo insieme i migliori dati che hanno dato e cioè 35 milioni di tonnellate che potrebbero essere ferme e stoccate in Ucraina bisogna ricordare che nel mondo il danno per la siccità è stimato in 100 milioni di tonnellate. Quindi se non ci saranno specurazioni il dato che sarà il dato del commercio domanda offerta è destinato a non cambiare rispetto ai parametri di oggi ricordandoci che tutto il mondo della produzione così anche come quello della trasformazione ha subito degli aumenti di costi derivati da concimi e energia molto ma molto importante. Per il grano banalmente stiamo parlando di 10-12 euro quintale in più rispetto ad un 2021. Cambiamo ancora argomento la vaccinazione anti-covid la quarta dose importante parte la sensibilizzazione dell'azienda USL anche tramite volantini. Vediamo. L'azienda USL di Ferrara rilancia la campagna di vaccinazione anti-covid per promuovere il più possibile la quarta dose evitare un nuovo aumento dei ricoveri e proteggere gli over 60 e la popolazione più fragile. In queste ore infatti in distribuzione un opuscolo informativo distribuito nelle case della salute negli ambulatori degli infermieri di famiglia e di comunità agli sportelli CUP con le modalità per accedere alla vaccinazione. È possibile prenotare la vaccinazione presso gli sportelli CUP oppure online con fascicolo sanitario elettronico con l'applicazione ER Salute e con il CUP web. È possibile inoltre prenotarsi in farmacia presentarsi ad accesso diretto nei centri vaccinali oppure concordare la vaccinazione presso il proprio medico di famiglia. I volantini contengono anche un QR code con un collegamento diretto alle pagine dedicate sul sito aziendale dell'azienda USL di Ferrara per rimanere aggiornati sulle informazioni legate all'emergenza coronavirus e alla campagna vaccinale come il calendario con giorni e orari di apertura delle sedie ad accesso diretto. Ci appelliamo ancora alla responsabilità dimostrata dalla popolazione ferrarese per raggiungere insieme l'obiettivo allargare la copertura vaccinale proteggere la popolazione più fragile ridurre il numero dei ricoveri e prevenire forme gravi di covid sostenute dalle varianti maggiormente circolanti ha sottolineato la direttrice generale dell'azienda USL di Ferrara Monica Calamai i numeri di quest'estate hanno dimostrato la necessità di continuare a contrastare il virus con gli strumenti che abbiamo a disposizione il vaccino e i comportamenti responsabili ha concluso Calamai gli ultraottantenni sono invitati a richiamo in quanto sono i più esposti alle complicazioni e agli effetti severi del covid mentre gli over 60 ne hanno diritto perché è evidente l'efficacia anche contro le varianti l'azienda USL raccomanda la somministrazione della quarta dose dopo quattro mesi dalla prima dose di richiamo ovvero la terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo e vediamo allora i dati riportati dall'ultimo bollettino covid che parla di 81 nuovi positivi 208 guariti due decessi e 6 nuovi ricoveri in ospedale quanto appunto riportato dal bollettino relativo a Ferrara e la provincia estense i nuovi contagi sono stati rilevati con 155 tamponi rifertati a perdere la vita per complicanze da covid tra venerdì 12 e lunedì 15 agosto sono stati un uomo di 84 anni di Ferrara è una donna di 79 anni di 100 quest'ultima ospite di una struttura residenziale aumenta anche se leggermente la pressione sugli ospedali sono 51 i pazienti ricoverati al Sant'Anna di Ferrara a Cona 48 al Delta di Lago Santo e 15 al Santissima annunziata di 100 ora cambiamo ancora argomento e facciamo poi arrivano i primi bilanci per quanto riguarda la sicurezza delle festività del Ferragosto con le operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine una persona arrestata 4 denunciati 13 posti di controllo e 6 contravvenzioni al codice della strada in sintesi è questo il bilancio della polizia durante il ponte di Ferragosto su indicazione del questore Salvatore Calabrese infatti sono stati intensificati i servizi di controllo sulla città e sulle località turistiche al fine di garantire a tutti la fruizione della ricorrenza in un contesto sicuro e presidiato le operazioni si sono verificate soprattutto in prossimità di locali e discoteche del litorale così da evitare riportano alle forze dell'ordine situazioni di disturbo per la quiete pubblica e prevenire fenomeni delittuosi anche connessi all'assunzione di bevande alcoliche e uso di sostanze stupefacenti nel complesso i controlli hanno riguardato l'identificazione di 450 persone 110 veicoli e 23 esercizi pubblici weekend intenso anche per i carabinieri che tramite un comunicato riportano l'impegno di 32 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 41 autoveicoli e 123 persone sospette rispondendo peraltro a diverse chiamate all'utenza di emergenza 112 tra sabato e lunedì ben 415 oltre a quelle pervenute sulle utenze ordinarie e dalle stazioni citofoniche il tutto da parte dei cittadini ma anche dei turisti del litorale l'attività oltre a garantire il mantenimento di buon livello di sicurezza ha portato alla denuncia in stato di libertà di 9 persone di cui 2 minorenni e la segnalazione all'autorità prefettizia di altre 3 persone tra cui un 15enne responsabili di violazioni amministrative o di detenzione dei stupefacenti e si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di attraversamento pedonale di accesso alla spiaggia libera per utenza con difficoltà motoria che dal retrospiaggia di Viale dei Mille a Porto Garibaldi percorre la spiaggia fino alla fascia prospicente la battigia a renderlo noto è il comune di Comacchio un'opera della lunghezza complessiva di 60 metri che da molti anni veniva richiesta a Porto Garibaldi in corrispondenza di una zona di spiaggia libera difficilmente accessibile l'opera è stata progettata dal personale del settore tecnico comunale con questa notizia guidiamo qua il nostro tv giornale per gli aggiornamenti vi rimando al sito la pagina facebook e al nostro canale youtube grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti